Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo con analisi modellistiche europee e previsioni su scala nazionale curato da Meteograd. Bollettino meteo per il giorno domenica 24 aprile 2022. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Permane alle alte latitudini una vasta figura anticiclonica che dalla Groenlandia va ad interessare tutto il circolo artico fino verso la Russia. Questa configurazione determina la permanenza del flusso zonale atlantico alle basse latitudini, caratterizzato da una serie di depressioni che vanno ad interessare l'Europa centrale e l'alto mediterraneo. Le precipitazioni più diffuse ed intense si trovano localizzate tra il nord della penisola italiana ed il centro Europa, in spostamento verso Levante. Il teso flusso atlantico appena descritto determina l'ulteriore intensificazione della risalita molto calda che va ad interessare il Medio Oriente e la Turchia, ivi portando temperature in quota di stampo nettamente estivo. Previsioni meteo in area italiana per il giorno domenica 24 aprile 2022. Nord. Cieli molto nuvolosi con nubi più compatte a ridosso dei rilievi e sulle regioni occidentali, specie nella prima parte della giornata, associate a rovesci o locali temporali. Le manifestazioni temporalesche potrebbero risultare di forte intensità sulla Liguria. Tendenza dal pomeriggio ad un rapido miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite dalla sera. Quota neve in calo fino a 1300 metri sulle Alpi. Centro. Condizioni di maltempo sulla Toscana con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno nelle zone interne e sui rilievi del centro ed interesseranno le pianure del Lazio, anche in prossimità delle coste. Fenomenologia meno probabile sulle regioni adriatiche con soltanto qualche sporadico rovescio sulle Marche. Dalla sera attenuazione della fenomenologia sulla Toscana con schiarite ad iniziare dalle coste. Sud e isole. Cieli poco o parzialmente nuvolosi con nubi più compatte sui settori tirrenici, dove non sono da escludersi dei rovesci al mattino e qualche temporale al pomeriggio sulle zone interne campane. Qualche breve rovescio sarà possibile anche sul nord della Sardegna. Generalmente asciutto sulle restanti zone con aperture ampie, in affermazione dal tardo pomeriggio ad iniziare da ovest. Temperature massime nel complesso stazionarie, salvo delle locali diminuzioni al nord e dal centro nord in occasione delle manifestazioni temporalesche. Minime anch'esse stazionarie su valori ovunque al di sopra delle medie del periodo. Ventilazione sud-occidentale da debole al nord, fino a moderata altrove. Locali rinforzi in area tirrenica e sui crinali appenninici. Mari da mossi sui settori adriatici, fino a localmente molto mossi sul tirreno. Moto ondoso in aumento dal pomeriggio sul mar Ligure dove i mari diverranno a tratti agitati. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere ogni giorno il bollettino meteo aggiornato. Fai clic anche sulla campanellina per ricevere le notifiche istantanee riguardo nuovi bollettini o contenuti.